Siamo in compagnia di Paola Deriva della Art for Interior Gallery. Allora, ci vuole parlare della linea di ricerca della sua galleria? Allora, noi selezioniamo e proponiamo e incoraggiamo e camminiamo a fianco di giovanissimi artisti che propongono soprattutto o provocazione, umorismo e materiali più disparati. Thomas B, qua alle mie spalle, ne ha un esempio. Lui lavora sul pluriball facendo un lavoro di pixel, lavora con i gratta e sosta della sosta milanese, li ha rigrattati proponendo mezzi di trasporto diversi da quelli della macchina e sono quelli che in questo momento stanno piacendo di più in AF Milano. Così come capsule, quelle medicinali che tra l'altro mi hanno fermato in frontiera perché sì, Thomas è un artista italo-americano, vive in America e le sue opere mi sono state fermate in Dogana perché appunto c'era pillole. Ma comunque anche gli altri artisti che proponiamo sono contemporanei per un'arte accessibile ma anche disponibile. Abbiamo molti artisti che fanno anche art action, quindi rendono disponibile la loro creatività al pubblico. Sono momenti naturalmente più ristretti in termini temporali di quello che è il loro lavoro in studio ma appunto rendono disponibile la loro creatività, la loro arte. E quali sono i progetti futuri della Galleria? Allora noi siamo in questo momento qua ad AF, saremo ad altre manifestazioni simili ad AF quindi sempre arte accessibile, arte accessibile sarà la prossima manifestazione alla quale andremo quindi la scelta che facciamo è quella di andare in manifestazioni, in mostre, mercato di questo genere. Abbiamo una serie di attività all'interno della nostra Galleria Milano, zona Macciacchini appunto con art action e abbiamo lanciato sui nostri artisti qualche mese fa un tema, il tema della libertà partecipata. Sarà un progetto che probabilmente non finirà mai, nel quale si stanno aggiungendo artisti con le loro sensibilità su questo tema che porteremo probabilmente aprile-maggio partendo dalla nostra Galleria ma l'intenzione è quella di coinvolgere scuole, licei perché parleremo anche del periodo della guerra, di un periodo attuale per cui si allargerà. E il tentativo che vogliamo fare è di portare questo tipo di tema in location molto suggestive. Una tra queste che stiamo cercando di avere è una chiesa sconsacrata quindi aggiungere ulteriore suggestione a un tema forte, politico, impegnato. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.